Sarà meglio che ti prepari Ciao anche a te Seguimi Nervosa? Senti, questo non riguarda me, ma te è il segno che devi lasciare perché la nostra crew salga di livello La gente mi conosce già Io ti guardo le spalle, ma tu vinci Dimostra di avere le carte in regola, non come Come la tua ultima crew? Tu sei migliore Speriamo Dunque, gli Speed Boys, che tipi sono? Beh, conosci Kenny, è praticamente una crisi di mezza età ambulante Poi c'è Daryl, non dice molto, ma è quello che ha talento Sono la crew di grado più alto, scelgono loro il percorso E Kenny non rende la vita facile a nessuno tranne a se stesso Aspettati brutte sorprese A sinistra A sinistra Eccoli Anna Rivera e il suo inutile braccio destro Credete di farcela contro gli Speed Boys? Vieni Ciao Daryl Ciao Beh, vi daremo una bella lezione Vi aspetto al traguardo Il primo posto ogni è te Puoi farcela Ok, dacci dentro Ecco qui, siamo in cima Adesso è tutta impicchiata Ops Ehi, sei un tipo sveglio Mi sto stancando dell'asfalto Proviamo qualcosa di diverso La spiaggia è tranquilla a quest'ora Non fermarti Stai andando bene Ora concentrati Non conosci la città finché non vedi il suo lato squallido E' abbastanza stretto? Che tipo simpatico Scusami Guarda che non mi arrenderò Boom Adesso c'è una birra star Ho perso un fanale tagliando una delle cose Le curve Cos'hai colpito? Non so, una fioriera o un bidone E ora è da buttare Ma cosa... Ah, merda No, no, no Che è successo? Sveglia la squadra Ne abbiamo un Ehi Ricevuto Tu, lontana dall'auto I documenti Rivera, eh? Roba tua? Sì C'è qualche problema Dipende Ci hanno segnalato che un veicolo simile a questo Sarebbe coinvolto in attività illecite Guarda avanti Significa Che se voglio sono autorizzato a confiscarlo Dove eravate? Niente, siamo appena... Siamo simbotti appena appena... Tu, documenti Idiota Bel nome Hai un'auto? Beh, sì Sì, agente, idiota! Dove? È laggiù Bella Forse ho scelto quella sbagliata Sho, sei per strada? Sto arrivando Chiavi Ma perché le chia... Chiavi La li vuoi? Dieci giorni E la demoliamo Ah, forse dieci Forse meno Guida piano No Portami a casa Allora Tutto ok? Devi capire Quando sono in macchina sento il potere lì ai miei piedi Qualcuno vuole mettermi alla prova? Certo, fatti sotto, andiamo Ma appena di conoscendo dal veicolo, signora Il potere ce l'hanno loro E io non ho Ci vediamo dopo Grazie per il passaggio A Carter A A P Un A Il problema delle corse clandestine fosse sotto controllo, ma ieri in tarda serata un gruppo di piloti clandestini ha invaso le strade causando migliaia di dollari di danni. Molti cittadini si chiedono cos'altro possa accadere. Credo che sia chiaro. La mia task force è assolutamente necessaria. Adesso più che mai. È stato un gesto imperdonabile. E vi posso garantire che io farò tutto quello che è in mio potere per assicurarmi che cose del genere non accadano più. Sai, sembra il genere di cose che qualcuno farebbe per... per farci notare. No, figurati. No. Non ti manca? No. Me lo passi? Secondo Ana eri a livello League. Che ti ha preso? Lei ancora non lo capisce. Beh, all'inizio non lo capivo neanch'io. Ci sono delle conseguenze. Ben più che perdere la crew. Dopo ieri notte sono sbalordito che non sia qui a pantarsi. Sì, sarà stanca. Già. Se non hai impegni, ho qualcosa per te. Ho un amico che mi sta tormentando. Vuole vedere cosa sei in grado di fare. Ha contatti. Potrebbe valerne la pena? Certo, va bene. Grazie. Di niente. Vediamo un po'.